Ciao a tutti, sono Fabio Silver e benvenuti a un nuovo episodio di Fabio Silver News. Oggi parliamo di qualcosa che vi sorprenderà, la classifica dei continenti per numero di abitanti. Vi siete mai chiesti qual è il continente più popolato o quale sta crescendo più velocemente? Beh, in questo video vi svelerò tutto quello che c'è da sapere. Ma prima un piccolo invito, iscrivetevi al canale, è gratis e per me significa tantissimo. Inoltre, non dimenticate di lasciare un like e un commento sotto questo video per dirmi cosa ne pensate. Se siete curiosi di scoprire qual è il continente con più persone e quale potrebbe diventare il prossimo gigante demografico, siete nel posto giusto. Ho un sacco di informazioni interessanti e dati sorprendenti da condividere con voi. Quindi, mettetevi comodi e preparatevi per un viaggio attraverso i continenti. Siete pronti? Allora, iniziamo! L'Antartide è il settimo continente per popolazione, anche se è l'unico continente senza una popolazione permanente. Durante l'estate antartica, che va da ottobre a marzo, fino a 4.400 persone, tra ricercatori e personale di supporto, lavorano nel continente. In inverno, questo numero scende a circa 1.100 persone. L'Antartide è conosciuto per le sue condizioni ambientali estreme. È il continente più freddo della Terra, con temperature che possono scendere fino a meno 80 gradi Celsius durante l'inverno. Inoltre, l'Antartide è il continente più arido, classificato come un deserto polare, con venti forti e tempeste di neve. Queste condizioni rendono impossibile la presenza di una popolazione permanente. Anche se non ci sono residenti stabili, l'Antartide ospita molte stazioni di cerca gestite da vari paesi. Queste stazioni conducono studi scientifici in campi come glaciologia, meteorologia, biologia e climatologia. Queste ricerche sono fondamentali per la comprensione del cambiamento climatico e degli ecosistemi polari. Il continente è governato da un accordo internazionale chiamato Trattato Antartico. Questo trattato vieta attività militari, sfruttamento minerario e azioni che possano danneggiare l'ecosistema, promuovendo invece la cooperazione scientifica e la conservazione ambientale. Il sesto continente per popolazione è l'Australia-Oceania. Ecco una descrizione più approfondita del continente. Popolazione. L'Oceania comprende diversi paesi insulari, tra cui l'Australia, la Nuova Zelanda e numerose isole nel Pacifico. La popolazione complessiva è di circa 41 milioni di persone. L'Australia è il paese più grande dell'Oceania, con una popolazione di circa 25 milioni, mentre la Nuova Zelanda ne conta circa 5 milioni. Geografia e cultura. L'Oceania è il continente più piccolo e insulare, costituito principalmente da isole. L'Australia è l'unico paese continente, coprendo una vasta area che include deserti, foreste e montagne. La Nuova Zelanda è formata da due grandi isole, l'isola del nord e l'isola del sud. L'Oceania comprende anche altre nazioni insulari, come Fiji, Samoa e Papua Nuova Guinea. Stati membri. L'Oceania conta 14 stati. Questi stati sono sparsi nell'Oceano Pacifico e variano notevolmente per dimensioni e cultura. Ad esempio, l'Australia è grande e geograficamente diversificata, mentre le isole del Pacifico sono molto più piccole e spesso caratterizzate da culture tradizionali e stili di vita diversi. Ambiente e biodiversità. L'Australia-Oceania è famosa per la sua biodiversità unica. L'Australia ospita una grande varietà di flora e fauna endemiche, come i kanguri, i koala e le piante dell'eucalipto. La grande barriera corallina è una delle meraviglie naturali del mondo, anche se sta affrontando minacce dovute al cambiamento climatico. In Nuova Zelanda i paesaggi spettacolari comprendono ghiacciai, montagne e foreste luggianti. Economia. L'economia dell'Oceania è varia. L'Australia ha una delle economie più avanzate del mondo, con settori come le risorse minerarie, l'agricoltura e il turismo che svolgono un ruolo significativo. La Nuova Zelanda è nota per la produzione agricola e l'industria del turismo. Molte delle isole del Pacifico hanno economie più piccole e si basano su turismo, pesca e agricoltura di sussistenza. Influenza culturale. L'Oceania ha una ricca storia di popolazioni indigene, con le culture aborigine australiane e maori neozelandesi che hanno profonde radici. Queste culture contribuiscono alla ricca diversità culturale del continente, che è un mix di tradizioni indigene e influenze occidentali. Il quinto continente per popolazione è il Sud America. Ecco un approfondimento sul continente, che copre vari aspetti importanti. Popolazione. Il Sud America ha una popolazione di circa 431 milioni di persone. I paesi più popolosi del continente sono Brasile, Colombia e Argentina. San Paolo, in Brasile, è una delle città più grandi al mondo, con oltre 10 milioni di abitanti. Geografia e ambiente. Il Sud America è noto per la sua diversità geografica. Comprende la catena montuosa delle Ande, che è la più lunga del mondo, e l'Amazonia, la più grande foresta pluviale tropicale. Il Rio delle Amazoni è uno dei fiumi più grandi del mondo per volume d'acqua. Il continente ha una vasta gamma di ecosistemi, che vanno dalle savane e deserti alle foreste tropicali. Cultura e storia. Il Sud America ha una ricca storia culturale. Prima dell'arrivo degli europei era abitato da civiltà avanzate come gli Incas. La colonizzazione europea, principalmente da parte di Spagna e Portogallo, ha lasciato un'eredità significativa in termini di lingua, religione e cultura. L'America Latina, che comprende il Sud America, è caratterizzata da una miscela di influenze indigene, europee e africane. Economia. L'economia del Sud America varia da paese a paese. Il Brasile è la più grande economia del continente e uno dei maggiori produttori di caffè, zucchero e soia al mondo. L'Argentina è nota per la sua agricoltura, in particolare per la produzione di carne e cereali. Molti paesi sudamericani hanno ricchezze naturali significative, come petrolio, minerali e gas naturale. Politica e società. Il Sud America ha vissuto una storia politica turbolenta, con periodi di dittature e instabilità politica. Tuttavia, negli ultimi decenni, molti paesi hanno fatto progressi verso la democrazia e la stabilità. Il continente è caratterizzato da una forte diversità etnica e culturale, con un crescente riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene. Turismo e attrazioni. Il Sud America è una destinazione turistica popolare, grazie alla sua bellezza naturale e alla ricca cultura. I turisti visitano attrazioni come le cascate di Iguazu, il Machu Picchu in Peru e le spiagge del Brasile. Le città come Buenos Aires e Rio de Janeiro sono famose per la loro vivace vita notturna e le tradizioni come il tango e il nevale. Il quarto continente per popolazione è il Nord America. Ecco una panoramica più approfondita sul continente, esplorando vari aspetti chiave. Popolazione. Il Nord America ha una popolazione di circa 580 milioni di persone. I principali paesi del continente sono gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Gli Stati Uniti sono il paese più popoloso, con oltre 330 milioni di abitanti, mentre il Canada ne ha circa 38 milioni e il Messico circa 130 milioni. Geografia e ambiente. Il Nord America è geograficamente diversificato. Dalle montagne rocciose e l'Alaska a ovest, ai grandi laghi e le pianure centrali, fino ai deserti nel sud ovest e alle coste atlantiche a est, il continente ospita una varietà di ecosistemi. Il Canada è noto per le sue vaste foreste e laghi, mentre il Messico ha una combinazione di montagne, deserti e coste tropicali. Cultura e società. Il Nord America ha una società culturalmente diversificata, influenzata dall'immigrazione e dalla colonizzazione europea. Gli Stati Uniti sono un melting pot di culture, con una grande varietà di gruppi etnici e linguistici. Il Messico ha una forte eredità indigena e una cultura profondamente influenzata dalla Spagna. Il Canada, con le sue due lingue ufficiali, inglese e francese, ha anche una significativa influenza indigena e francofona. Economia. Il Nord America ha una delle economie più forti del mondo. Gli Stati Uniti sono una superpotenza economica, con settori chiave come tecnologia, finanza, intrattenimento e industria militare. Il Canada ha un'economia diversificata, con risorse naturali, manifattura e servizi. Il Messico è un importante centro di produzione e commercio, grazie alla sua posizione strategica tra Stati Uniti e America Latina. Politica. La politica nel Nord America varia notevolmente. Gli Stati Uniti sono una democrazia federale, con un sistema politico complesso e un forte ruolo internazionale. Il Canada è una monarchia costituzionale con un sistema parlamentare. Il Messico è una repubblica federale con una lunga storia di cambiamenti politici e sfide di governance. Turismo e attrazioni. Il Nord America offre una vasta gamma di attrazioni turistiche. Gli Stati Uniti sono famosi per città come New York, Los Angeles e San Francisco e per i parchi nazionali come Yellowstone e il Grand Canyon. Il Canada attira visitatori con le sue bellezze naturali, come le cascate del Niagara e le montagne rocciose. Il Messico è noto per le sue spiagge, siti archeologici come Teotihuacan e la vivace cultura, tra cui il Dia de los Muertos e il cibo tradizionale come i tacos e le enciladas. Il terzo continente per popolazione è l'Europa. Ecco un approfondimento dettagliato su questo continente, esplorando vari aspetti chiave. Popolazione. L'Europa ha circa 743 milioni di abitanti, che rappresentano il 10% della popolazione mondiale. I paesi più popolosi sono la Russia, la Germania, il Regno Unito, la Francia e l'Italia. Sebbene abbia un'elevata densità di popolazione in alcune aree, l'Europa sta vivendo una leggera diminuzione della popolazione a causa del calo dei tassi di natalità e dell'invecchiamento della popolazione. Geografia e ambiente. L'Europa è il continente più piccolo dopo l'Australia, ma è geograficamente diversificato. Comprende montagne come le Alpi e i Pirenei, fiumi come il Reno e il Danubio e vaste pianure. L'Europa ha anche una lunga costa che si affaccia su diversi mari, tra cui il Mediterraneo, il Mare del Nord e il Mar Baltico. Cultura e storia. L'Europa è nota per la sua ricca storia e cultura. È stata la culla di civiltà antiche come la Grecia e Roma e ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo della scienza, della filosofia e dell'arte. L'Europa è stata anche il centro della colonizzazione europea, che ha avuto un impatto significativo sulla storia globale. La cultura europea è stata influenzata da numerose tradizioni, lingue e religioni. Economia. L'Europa ha alcune delle economie più sviluppate al mondo. L'Unione Europea è un blocco economico e politico che comprende 27 paesi e ha un grande impatto sul commercio e sulla politica globali. La Germania è la più grande economia europea, seguita da Francia, Regno Unito e Italia. L'industria, la tecnologia e i servizi sono settori economici chiave in Europa. Politica. L'Europa è politicamente variegata, con diversi sistemi di governo. Alcuni paesi sono monarchie costituzionali, come il Regno Unito e la Spagna, mentre altri sono repubbliche parlamentari, come la Germania e l'Italia. L'Unione Europea svolge un ruolo importante nel coordinare le politiche economiche e sociali tra i paesi membri, promuovendo la cooperazione e la pace. Turismo e attrazioni. L'Europa è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo. Offre una vasta gamma di attrazioni, dalle città storiche come Roma, Parigi e Londra, ai paesaggi naturali delle Alpi e delle Highlands scozzesi. L'Europa è famosa anche per i suoi musei, cattedrali e castelli, nonché per la sua gastronomia e tradizioni culturali uniche. L'Europa è un continente di grande diversità e complessità, con una lunga storia e un forte impatto culturale e politico a livello mondiale. Il secondo continente per popolazione è l'Africa. Qui troverai un approfondimento dettagliato su questo continente, esplorando vari aspetti rilevanti. Popolazione. L'Africa ha circa un miliardo e 300 milioni di abitanti, rendendola il secondo continente più popoloso al mondo. È anche il continente con la crescita demografica più rapida, con un tasso di crescita superiore a qualsiasi altra parte del mondo. Questo rapido aumento della popolazione è dovuto in parte a una maggiore percentuale di giovani e a tassi di fertilità elevati. Geografia e ambiente. L'Africa è il secondo continente più grande per superficie, dopo l'Asia. È caratterizzata da una vasta gamma di ecosistemi, tra cui deserti, come il Sahara, savane, foreste pluviali e montagne. L'Africa ospita il fiume più lungo del mondo, il Nilo, e il secondo fiume più grande per volume d'acqua, il Congo. Cultura e società. L'Africa è un continente estremamente diversificato in termini di culture, lingue e religioni. Ospita più di 3.000 gruppi etnici e linguistici. Le religioni principali sono il cristianesimo e l'islam, ma ci sono anche numerose religioni tradizionali africane. Questa diversità culturale si riflette in una ricca tradizione di musica, danza, arte e letteratura. Economia. L'economia africana è diversificata, con alcuni paesi ricchi di risorse naturali e altri che dipendono principalmente dall'agricoltura. L'Africa ha grandi riserve di petrolio, gas, diamanti e altri minerali. Tuttavia, molti paesi africani affrontano sfide economiche significative, tra cui la povertà, la disoccupazione e l'instabilità politica. L'economia informale è una parte importante del tessuto economico africano. Politica e storia. L'Africa ha una storia lunga e complessa, segnata da civiltà antiche come l'Egitto, il regno di Axum e il regno del Mali. Nel periodo coloniale, l'Africa fu dominata dalle potenze europee, un'eredità che ha lasciato un'impronta profonda sulla politica e la società africana. Oggi il continente è composto da 54 paesi indipendenti, ognuno con il proprio sistema politico. L'Unione Africana è un'organizzazione continentale che promuove la cooperazione tra i paesi africani. Turismo e attrazioni. L'Africa è una destinazione turistica popolare per la sua biodiversità e paesaggi spettacolari. È famosa per i safari, con la possibilità di vedere animali iconici come leoni, elefanti e rinoceronti. Il continente offre anche luoghi storici significativi come le piramidi d'Egitto e le rovine di cartagine e meraviglie naturali come le cascate Vittoria. L'Africa è un continente di straordinaria ricchezza culturale e naturale, ma affronta anche sfide complesse in termini di sviluppo economico e stabilità politica. Il primo continente per popolazione è l'Asia. Ecco una descrizione approfondita su questo continente, esplorando vari aspetti fondamentali. Popolazione. L'Asia è il continente più popolato del mondo, con circa 4 miliardi e 500 milioni di abitanti, che rappresentano circa il 60% della popolazione mondiale. I paesi più popolosi in Asia sono la Cina e l'India, che insieme contano quasi 3 miliardi di persone. Altri paesi con popolazioni significative includono Indonesia, Pakistan, Bangladesh e Giappone. Geografia e ambiente. L'Asia è il continente più grande per superficie, con circa 44 milioni di chilometri quadrati. È caratterizzata da una grande varietà di paesaggi e climi, dai deserti dell'Arabia e del Gobi alle fitte foreste tropicali del sud-est asiatico, fino alle catene montuose dell'Himalaya, che includono il Monte Everest, il punto più alto del mondo. Cultura e società. L'Asia è straordinariamente diversificata dal punto di vista culturale. Ospita una vasta gamma di lingue, religioni e tradizioni. Le religioni principali includono il Buddismo, l'Islam, l'Induismo e il Cristianesimo, oltre a numerose religioni tradizionali e pratiche spirituali. L'Asia è anche la culla di antiche civiltà come la Cina e l'India, con una storia ricca di contributi significativi alla scienza, alla filosofia e all'arte. Economia. L'Asia è uno dei principali motori dell'economia globale. Paesi come la Cina, il Giappone e la Corea del Sud hanno economie avanzate con forti settori manifatturieri e tecnologici. La Cina è il secondo paese più grande al mondo per prodotto interno lordo, mentre il Giappone è il terzo. Altri paesi asiatici, come Singapore e gli Emirati Arabi Uniti, sono centri finanziari importanti. Politica e storia. L'Asia ha una storia politica complessa e varia. Include paesi con sistemi politici molto diversi, dalle monarchie costituzionali come il Giappone e la Thailandia, alle repubbliche democratiche come l'India, fino agli stati a partito unico come la Cina. L'Asia ha anche una storia di colonizzazione europea e guerre, con conseguenze durature sulla politica e la società. Turismo e attrazioni. L'Asia è una destinazione turistica popolare per la sua diversità culturale e naturale. Offre una vasta gamma di attrazioni, dai siti storici come la grande muraglia cinese e il Taj Mahal in India, ai moderni grattattacieli di Dubai e Tokyo. I paesaggi naturali dell'Asia attirano anche molti turisti, con destinazioni come le spiagge della Thailandia e le montagne del Nepal. L'Asia è un continente di grande importanza globale, con una popolazione enorme e un impatto significativo sull'economia, la politica e la cultura mondiali. La sua diversità e complessità lo rendono un luogo affascinante e dinamico. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio attraverso i continenti del mondo. Come abbiamo visto, l'Asia è il continente più popolato, con oltre 4 miliardi di abitanti, mentre l'Africa è il secondo, con una popolazione in rapida crescita. In effetti, l'Africa è il continente che sta crescendo di più in termini di popolazione e questa tendenza continuerà nei prossimi anni. D'altra parte, l'Europa sta vivendo un calo della popolazione. Con tassi di natalità in diminuzione e una popolazione che invecchia, molti paesi europei vedranno un declino nei decenni a venire. Questo è un trend interessante da tenere d'occhio e che potrebbe avere grandi conseguenze sulla società e l'economia. Se vi è piaciuto questo video, assicuratevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. È gratuito e mi aiuta tantissimo a creare più contenuti di qualità per voi. Inoltre, non esitate a lasciare un commento per farmi sapere quali altri argomenti vorreste che trattassi nei prossimi video. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima puntata di Fabio Silver News. Buona giornata!